Questa è la seconda battaglia del sesto capitolo della modalità storia di Injustice 2 ragazzi voglio farvi questa domanda se Bluebeathle ha sconfitto Black Adam sapete chi affronterà in questa seconda battaglia? Nightwing purtroppo Damien Wayne non è più Robin come nel primo capitolo ma ritorna a essere il vecchio Nightwing come c'era Injustice Gods Among Us è vero me lo ricordo bene quando Bluebeathle fa le sue lame è ancora più forte e invincibile Nightwing si sconfigge solo nella modalità storia bene vi saluto mettete un mi piace iscrivetevi al canale il nostro Bluebeathle vince Grazie 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 Grazie